Però è un tema di domani questo, questo è un tema di domani. Rimaniamo ai temi di oggi, perché domani lavoriamo sul come farlo. Oggi lavoriamo sul perché è importante. Quindi questo ha a che vedere con il nostro dialogo. Ma poi c'è qualcosa di più profondo, perché ognuno di noi convive con, si chiamano peccati capitali dell'evoluzione, della crescita. Sapete cosa sono i peccati capitali? Chi di voi ha fatto catechismo da bambino? Nel senso proprio chi è che era... No, estetista. Chi era catechista? No, cioè avete partecipato a... Ok, perfetto. Ti hai fatto la catechista? Anch'io ho fatto la catechista. No, nel senso... Alla CR, bravissima, bravissima. Allora, noi da bambini, perché almeno fino alla crescita siamo andati a catechismo, no? E lì in mezzo, fra la comunione della crescita, ci hanno insegnato i sette peccati capitali. Cioè, quei vizi umani con cui noi dobbiamo convivere, che fanno parte di noi, quindi non è possibile non averli. Dobbiamo gestirli, se no ci gestiscono. Se ci gestiscono vuol dire che ci uccidono. Adesso l'ho fatta aulica. Se avete visto Seven, tutti, è più facile. L'avete visto Seven? Accidia, lussuria, gola, pigrizia, invidia, superbia, ira. Sono quelle caratteristiche dei comportamenti umani che possono annientarti. Ce ne sono tre di questi, in realtà uno fa parte anche di quelli, che sono proprio i peccati capitali della nostra crescita, che dobbiamo imparare a gestire. Se non impari a gestire queste tre cose, ti uccidono. Uccidono la tua crescita, tu puoi avere tutti i talenti del mondo, tutte le competenze del mondo. Scrivilo! Il mondo è pieno di gente in gambissima che non combina un cazzo. Pieno! Dove non combina un cazzo, è chiaro, stiamo parlando di felicità, eh? Non è che uno che combina deve fatturare, no. Uno lo può fare in una declinazione lavorativa, uno lo può fare in declinazione personale, professionale. Cioè non si realizzano. Muoiono e quando muoiono la sensazione è che è peccato. Quando invece, siccome tutti moriamo, l'obiettivo di ognuno di noi dovrebbe essere che quando ce ne andiamo, la gente possa dire che è grande e che noi ce ne andiamo e dice cazzo, ho vissuto, che bello, non che peccato. E questo peccato è figlio di queste tre vizi, la pighirizia, le scuse e le comodità. Non è pensabile mettersi in un cammino, fare una crescita e un'evoluzione se lasciamo vincere la pigrizia, le scuse e la comodità. Allora, cosa intendo per pigrizia? Per pigrizia intendo, è quello che fa parte anche dei sette peccati capitali. E lì si chiama cidia. Cos'è la cidia? Quando non c'è voglia di fare un cazzo. Hai presente? Chi di voi ha vissuto l'esperienza di non aver voglia di fare un cazzo? A chi è successo? Ok. E quello è un passaggio chiave. Scrivilo. La differenza la fai quando non c'hai voglia. Non quando c'hai voglia. Quando va tutto bene. Sono capaci tutti. Quando tu vai a lavoro e tutto funziona. Quando torni a casa con il tuo compagno e con la tua compagna e tutto funziona. Quando stai bene. Quando hai voglia di allenarti. Quando mangi bene. Grazie al cazzo. La differenza la fai quando non c'hai voglia. Chi dici devo andare a lavorare. Cazzo che casino. Torno a casa, devo sistemare queste robe con i miei figli, con mia moglie. Non c'ho voglia. Andrai a ubriacarmi. Quando hai delle cose da sistemare diversamente. Quando devi andarti a allenarti. A parte qualche atleta che è qua in sala. Gli altri. Nessuno c'ha voglia di allenarsi. Nessuno. Che cazzo c'ha voglia di sudare? Paghi anche. Ma vaffanculo. Però ti fa la differenza. Allora, quello che ci dobbiamo chiedere è Cosa fai quando non c'hai voglia? Cosa fai quando... E' lì la differenza. La crescita la fai quando non c'hai voglia, ma tu fai vincere il devo. Fai vincere il... E' necessario, è importante. Non faccio ciò che ho voglia, faccio ciò che serve. Quello che mi necessita. Le scuse. Gramellini dice Non sono i sei ma che ci fanno crescere nella vita, sono i nonostante. Nonostante. Scrivetelo. In questo momento storico, poi, ha maggior ragione. In questo momento storico ha maggior ragione. Perché ha maggior ragione? Perché diciamoci la verità. La condizione socio-economica che c'è fuori potrebbe essere una bella scusa? Sì o no? Sì. Sì. Potrebbe esserlo. E' una gran bella scusa. C'è una pandemia. E' una gran bella scusa. C'è un'inflazione che viaggia fra il 6 e l'8. Non la vedevamo negli anni 80. E' una gran bella scusa per tanti settori. Non sapere come cazzo funziona con le materie prime. Ci aspettano a rincarire dal 40 all'80% nei prossimi mesi. L'avete già iniziato a vedere con le bollette energetiche. Sta arrivando. Prima l'hanno assorbita le aziende. Adesso arrivano i consumatori. Avete fatto un pieno. Avete visto? Cioè, la benzina è 2 euro. Va bene? Qualcuno dice Cazzo me ne frega io metto sempre 50 euro. Lo capisco. Allora, lì in mezzo avresti le scuse di dire Sai cosa c'è? Aspetta un attimo. Aspettiamo che questa buriana finisca. E invece no. Non sono i sì ma. Sono i nonostante questo cosa stai facendo. Nonostante. Eh, ma mio marito non mi capisce. Mia moglie mi aggredisce. Mio figlio è un testone. Ok, non sono i sì ma. Sono i nonostante. Perché scrivetelo Le scuse uccidono la crescita. Le scuse uccidono la crescita perché hanno un problema. Le scuse col tempo diventano valide. Le scuse col tempo diventano valide. Perché è mal comune mezzo gaudio, no? Quando noi ci concentriamo Quella roba lì è oggettiva E quindi diventa una scusa per tutti Per cui, oh, no. Invece noi dobbiamo ragionare sul Nonostante la situazione. Questo è quello che si fa se vuoi crescere Altrimenti tu non sei causa Sei effetto E non potrai mai essere felice. Cosa posso fare? Che soluzioni posso trovare?